eccezionale puzzle vanstar ok eccezionale puzzle vanstar mercedes benz classe b autocaravan 220 di automatico quattromatic long un camper quattro posti con quattro posti letto sì ma perché i suoi occhiali da sole non solo da sole sono da aperitivo pensate sempre solo gelosamente guidato dall'unico precedente proprietario classe 1958 e ceduto solo per mutate esigenze familiari il secondo letto matrimoniale componibile non è mai stato usato ed è ancora nella confezione originale è un perfetto ibrido tra pratica mono volume da uso quotidiano e piccolo e versatile camper per vacanze egite realizzato a partire da una base meccanica d'eccellenza marchiata mercedes benz si ok ma quanto ci vuole per trasformarlo in un camper un attimo ed è il No innocent one in this game for two I'll go, I'll go And then you go, you go I didn't spill the truth Can we both say the words And forget this Yeah Is it too late now to say sorry? Cause I'm Missing more than just your body Oh Is it too late now to say sorry? Yeah, I know Oh, that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me Cause I'm Missing more than just your body Oh Is it too late now to say sorry? Yeah, I know Oh, that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? Oh I'm sorry Yeah Yeah Oh Yeah Grazie a tutti.